bravo ti avevo visto qua ma avete visto don silvano e indietro don silvano era con voi è una bella età cosi chiamata e lui arriva non lo so è lui e vai don silvano vai forte è lui è lui è forte ercole a la tosia a la tosia a la tosia